Un weekend all'Aquila di rilancio delle potenzialità dell'aeroporto di Preturo Giuliana Tamburro, un air show organizzato dalla Sunrise Aviation, la società che gestisce lo scalo in collaborazione con l'aeroclub di Roma, promosso dal Comune per celebrare il centenario dell'aeronautica militare. 100.000 euro per l'organizzazione messi a disposizione dalla regione Abruzzo, eventi per tutto il weekend e per tutta la giornata, sono esposti velivoli storici, alianti, elicotteri e altri materiali legati alla disciplina del volo, in più stand di cultura aeronautica e mostre fotografiche, ma anche spettacoli di intrattenimento per i più piccoli, esibizioni di velivoli storici, voli acrobatici e pattuglie con velivoli convenzionali e jet. A disposizione è anche una mongolfiera dove poter salire, ci sarà la possibilità di fare voli introduttivi in aereo, uno show che prevedeva all'inizio anche l'esibizione delle amatissime frecce tricolori, passaggio cancellato per la prematura scomparsa del capitano Gherzi, le frecce però torneranno all'Aquila in due diverse occasioni, ad agosto e il prossimo anno. Sono due giorni con cui celebriamo i cent'anni dell'aeronautica militare qui a Preturo, valorizzare l'aeroporto, lo facciamo anche attraverso queste manifestazioni importanti per il territorio, una valorizzazione che passa poi anche gli investimenti che questa amministrazione sta facendo e che dentro le stande si concretizzeranno nella partenza dei lavori del nuovo hangar. Ecco, una cosa importante per le attività extra, che c'è un costo minimo perché l'ingresso è gratuito, avete scelto la solidarietà. Sì, ieri sera abbiamo fatto l'ultimo briefing con gli organizzatori, la Sarraessa Aviation che tengo a ringraziare anche con il sindaco Biondi, abbiamo deciso di destinare parte del ricavato di queste attività accessorie alla manifestazione agli amici delle miglia Romagna.